e questa settimana finalmente arrivano i parkside performance però su questo volantino non ci sono tranne un abitatore come faccio a saperlo beh dovreste saperlo anche voi perché nel nuovo canale che ho creato dove pubblico volantini letti in modo molto più rapidito e molto più sintetico ho già pubblicato il volantino completo con tutti gli utenti di parkside che usciranno giorno 20 quindi andate a guardare nel link perché il canale sta crescendo quindi vi piace l'ultimo video superato i 50.000 visualizzazioni in meno di un giorno quindi andate a guardare anche la perché qua vi leggerò il volantino spiegandolo quindi vi darò tutte le opinioni sugli utensili che ho utilizzato e le mie opinioni insomma una mini recensione in quello invece sono molto più veloce dopo le qualche opinione ma in modo molto più sintetico ma soprattutto i video sono completi quindi tutti i prodotti che troverete alla lidl quindi guardiamo il volantino cartaceo delle uscite comprese fra il 20 e il 26 novembre 2023 e vediamo quello che ci propongono però andate a guardare anche quello perché quello è più ricco forse però avere dovuto fare l'introduzione al solito dicendo ciao ragazzi sono riccardo benvenuti vabbè ma chi mi conosce sa che sono riccardo chi non mi conosce che gliene fredda vabbè iniziamo e allora iniziamo quindi la lettura di questo volantino così con l'utensile messo al centro del volantino perché devo spiegarvi due dettagli allora innanzitutto l'uscita sono lunedì 20 novembre 2023 la pagina del volantino è la numero 24 quindi questo articolo il primo che troviamo sulla sinistra ed è una lucidatrice ricaricabile che funziona con batterie da 12 volt tutte le batterie della linea x 12 v team funzionano con questo utensile con tutti gli altri utensili che vi farò vedere viene venduta senza batterie senza caricabatterie perché l'ho messo qua perché devo farvi vedere un particolare sul sistema di sgancio di sicurezza ogni volta spiego che va premuto va rilasciato eccetera sul modello che comprerete voi questo tastino di sicurezza praticamente sempre sporgente e prima di premere il tastino dovete premerlo in modo da liberarlo su questo invece allo scatto ci tengo a precisare questo dettaglio perché chi guarderà la mia recensione quello comprerà penserà di avere preso un modello difettoso invece il modello nuovo a questo tasto con una molla che lo riporta in posizione qua vedete anche il prattorello più grande perché io ho fatto questa modifica vi lascerò anche il link per vedere quale modifico eseguito come l'ho fatto due velocità per smerigliare e lucidare il numero di giri è regolabile a piacere e in dotazione vengono dati tre dischi per lucidatura preliminare correzione e cura più un set di carte abrasive con diversi tipi di grane vi lascerò anche il link per poter comprare la carta abrasiva adatta inoltre come avete visto un impugnatura laterale che si può posizionare sia a destra che a sinistra ma nella recensione spiego praticamente tutto lo stesso giorno troveremo le batterie in vendita quest'anno per la prima volta le batterie saranno da 2 da 4 e 5 ampere e potete ricaricare queste batterie che sono della linea x 12 v team con i vostri carica batterie x 12 v team quindi se avete già utensili di questa linea potete caricarli senza problemi su questo utensile potete utilizzare tranquillamente sia la batteria da 2 da 4 o da 5 ampere e lo spunto su questo tipo di utensile non serve però quando farete un po di pressione in più sulle superfici con la batteria da 2 ampere potrebbe tendere a fermarsi invece con la batteria da 4 e da 5 avrà uno sprint maggiore un altro particolare però che mi stava sfuggendo è il fatto che questo platorello ruoti sul proprio asse quindi non è una lucidatrice orbitale semplicemente ruota su se stesso quindi dovete comunque fare voi dei movimenti per ottenere il risultato migliore passiamo all'articolo successivo si tratta di una lampada led ricaricabile da lavoro al costo di 9 euro e 99 a questa parte regolabile quindi orientabile su più posizioni due livelli di luminosità regolabili tramite il tastino laterale che lo stesso tastino che serve per accenderlo nella parte posteriore c'è una clip e ci sono pure due magneti ve lo faccio vedere perché ce l'ho qua quindi questa è la clip che permette di bloccarla per esempio sul pantalone sulla cintura questi sono dei magneti tra l'altro c'è un pochettino di limatura e si può aprire regolare in questo modo quindi abbiamo diverse posizioni per poterla orientare ma anche questa recensita come la lucidatrice poco fa quindi vi lascio il link per vedere tutte le caratteristiche 480 lumen al massimo alla particolarità di questa lampada il fatto che ha una bella luminosità sia come temperature e colore 6500 k che come ampiezza quindi è luminosa ampia e piacevole da utilizzare andate a guardare la recensione per vedere come funziona comunque senza batteria e senza caricabatterie come sarà senza batteria e senza caricabatterie questa piccola presatrice verticale allora io non mi sono trovato bene sinceramente era un modello che presentava qualche piccolo difetto che secondo me la rendevano praticamente quasi inutilizzabile perché se si affondava per più di 2 mm tendeva a fermarsi bisognava procedere molto molto lentamente e fin qui se una pazienza può farlo senza problemi il problema vero e proprio il fatto che sui ben due esemplari la fresa mi è rimasta all'interno del gambo non sono riuscito a rimuoverla in nessun modo quindi il tastino di sblocco praticamente era difettoso quindi non sono riuscito a utilizzarla spero che abbiano migliorato questo difetto considerate che frequento moltissimi gruppi su social network anzi vi lascerò pure il link di un gruppo molto frequentato uno dei migliori su facebook nel quale per esempio quasi nessuno si sta lamentando quindi può essere che abbiano tolto questo difetto torniamo però a parlare degli altri utensili quindi una pistola spara punti ricaricabile anche questo valore sentita sarà tra l'altro in sconto quindi 5 euro e meno anziché 29 euro e 99 costerà 24 euro e 99 in dotazione troveremo anche 400 graffe da 10 mm e 100 chiodi da 15 mm il serbatoio può accogliere 100 graffe oppure 50 chiodi per vedere come funziona link nel primo commento e nella descrizione andiamo ancora più giù e troviamo questa levigatrice multifunzione ricaricabile 29 euro e 99 oppure questa valore sentita a me è piaciuta la utilizzo tuttora senza nessun problema vi leggo rapidamente la disascalia però andate a guardare il link per vedere come funziona vi dico comunque che è un prodotto valido funzione di aspirazione integrata in dotazione valigetta adattatore per aspiratore esterno quattro fogli di carta abrasiva dispositivo per il fissaggio della carta abrasiva che è un dispositivo che serve per posizionare bene la carta evitare che venga messa a storta soprattutto per fare in modo che i fori combaciano con i fori sul platorello e quindi l'aspirazione possa funzionare per quanto riguarda le batterie me ne ho parlato poco fa queste da 4 le 5 ampere hanno anche il cell balancing quindi una tecnologia in più che ci permettono di fare in modo che le batterie si usurino si consumino nello stesso modo in modo bilanciato e questa invece no però se comunque molto valide anche questa continua utilizzarli tuttora quindi sono tutte batterie che utilizzo con soddisfazione questi sono dei set che contengono 71 pezzi oppure 56 pezzi sono suddivisi per tipologia all'interno troviamo sia beat con i tagli particolari oppure beat più lunghi o più corti l'unica differenza sarà su questo tipo che oltre ad avere i beat sia quelli piccoli che quelli medi quindi da 25 da 50 mm anche alcune bussole all'interno le altre invece hanno solo i beat più lunghi e beat più corti con svariate tipologie di tagli per poter svitare anche le viti quelle più particolari queste invece sono dei set di punte da trapano oppure set raspe e mole per legno a costo di 8 euro 99 ciascuno sono semplicemente delle punte di trapano ma che hanno delle forme diverse quelle a forma di raspa per esempio sono delle punte con degli spuntoni come se fossero ad avere proprio raspe per legno ma su una forma cilindrica quindi che permettono di fare delle secomature particolari e me l'avete visto utilizzare per esempio quando ho costruito l'arco queste sono normali punte di trapano con forme particolari ma comunque sempre punte di trapano qua invece troviamo degli accessori differenti a proposito delle punte di trapano le troviamo anche qua giù sono tre set uno per il metallo uno per il legno e l'altra per il muro al costo di 9 euro e 99 ciascuno è un set nuovo questo non l'avevo mai visto con il contenitore di colore verde in metallo quindi simpatico come tipo di contenitore e speriamo che le punte siano tutte dritte perché solitamente quando il prezzo è così basso per tutte queste punte insomma 18 19 punti a 9 euro e 99 considerando alcune punte le ho pagate anche una decina di euro al brico non mi aspetto grandissimi risultati però speriamo che per uso hobbistico almeno non si rompano non siano molto storte poi se non sono molto affilate possiamo chiudere un occhio staremo qualche secondo in più queste invece sono dei set per l'efficatura o lucidatura alcune con il gambo cilindrico altre invece con il gambo esagonale da un quarto di pollice quindi li possono utilizzare su quegli abitatori che hanno l'immesto per esempio questo da un quarto di pollice esagonale si inseriscono senza nessun problema quelle cilindriche invece potete utilizzarle solamente sui mandrini che si aprono e troveremo quindi dei set che contengono accessori per l'efficatura altri che servono per la pulizia come questa sorta di spazzoloni questi servono invece per la lucidatura questo è invece un disco rimuovi adesivi che non ho mai utilizzato e che mi interessa quindi se lo trovo spero di riuscire ad accaperrarmelo poi ci sarà anche una felpa quindi una giacca in pile da lavoro per uomo 14 euro 99 di colore grigio oppure colore intracite e delle calze da lavoro a 4 euro e 99 nella pagina precedente però troviamo qualche articolo quindi per esempio il set trappano abitatore ricaricabile che per il black weekend costerà 49 euro però attenzione perché questo somiglia a questo abitatore che vi ho appena fatto vedere praticamente identico però qua abbiamo la comunità del mandrino separabile ci permette di utilizzare sia questo alloggiamento che il mandrino che stringe le punte sia cilindri che esagonale eccetera qua invece possiamo solamente utilizzare il mandrino comunque un buon mandrino autoserrante questo avvitatore è della linea performance col motore brushless per vedere la recensione vi lascerò pure il link sempre in offerta troverete anche quest'altro avvitatore set trap trappano avvitatore ricaricabile con all'interno diversi accessori tra cui due batterie il caricabatterie poi cutter un metro flessibile eccetera questo avvitatore l'ho già recensito diverse volte e pure per questo vi lascerò quindi il link ora passiamo agli articoli performance che però vi farò vedere in formato digitale in realtà più che in formato digitale sul supporto digitale perché inquadrano direttamente l'ipad allora quello che troveremo sarà una penna levigatrice al costo 69 euro questa sarà con batteria 12 volt quindi utilizzerete questa batteria in dotazione nei 69 euro dovete considerare che troverete una comoda valigia in metallo con all'interno tutti questi accessori più la batteria è il caricabatterie oltre che l'utensile è completamente diverso il modello 12 volt per esempio questo anche se è un modello molto vecchio non fate cassa rumore ma il mandrino l'ho montato io extra un piccolo difetto farò guardate se io l'avvio si ferma sono bassa velocità quindi fra due e tre anche se io mento come vedete riesco a fermarla con quella non riuscita perché questo tipo di motore del modello nuovo ha una potenza maggiore e ci permette di utilizzarla ai bassi giri con una buona coppia quindi un modello che a me serve effettivamente perché tante volte lavoro con modelli di precisione ho bisogno di una levigatura a bassa velocità ma che abbia una buona potenza e con quelle ho sempre avuto difficoltà quindi 69 euro avrete batteria caricabatterie l'utensile nuova versione tra l'altro con un pannellino di controllo sulla parte superiore che permette di regolare la velocità ci sarà anche questa parte che si ribalta quindi possiamo pure appenderlo per esempio nel nostro laboratorio parliamo ora dell'articolo successivo ed è un avvitatore a percussione quindi a impulsi tipo l'avvitatore di colore verde il verdone lo smontagomme chiamato anche così che all'innesto quadrato da mezzo pollice e che serve quindi per poter essere utilizzato con le bussole adatto anche per smontare le gomme oppure per abitare delle grosse viti ma comunque un numero di impulsi meno meno rapidi rispetto al piccolo avvitatore che già vi ho fatto vedere mi riferisco a questo modello questo è più adatto per le viti si possono evitare svitare bulloni e viti con entrambi senza problemi però uno è più adatto per un lavoro e uno per l'altro questo lo vedo più adatto per le gomme batteria da 12 volt in questo caso si può utilizzare tranquillamente quella 5 per perché da pure un maggiore spunto oltre che una maggiore autonomia per quanto riguarda la coppia da questa parte abbiamo massima coppia di svitatura 350 newton metro però la coppia regolabile su quattro livelli di coppia quindi 85 125 200 e 300 newton metro però la coppia massima di svitatura 350 newton metro devo approfondire questa piccola differenza di 50 newton metro tra la coppia massima e la coppia impostabile comunque in dotazione troveremo pure quattro bussole con un diametro di 17 19 21 e 23 mm per una lunghezza totale di 75 mm considerate però che questo tipo di bussole anche se vengono venduta con l'abitatore adatto per smontare le gomme in realtà non sono quelle specifiche smontare le gomme con l'avvitatore di impulsi un minimo di forza viene dissipata perché anche se voi non lo vedete ma se riesco a trovare le quadrature slow motion le inserisco la bussola tende a torcersi leggermente quindi l'energia viene dissipata per poterle sfruttare al 100 per cento andrebbe utilizzato con le bussole che costano più dell'avvitatore e che vi permettono di dare tutta la coppia necessaria in questo caso riuscirete a svitare senza problemi qualunque tipo di dato ovviamente che rientri nella coppia massima e soprattutto è importante che il gommista non abbia stretto le gomme a morte altrimenti non ci riuscirete mai e dunque spero che vi sia piaciuto questo volantino misto cartaceo digitale ragazzi ringrazio massimo per avermi mandato i link come sempre ringrazio voi per avere visto il video fino in fondo vi invito ad andare a guardare anche l'altro canale iscrivetevi perché la oltre volantini pubblico pubblicherò qualche novità inedito a tanti contenuti inediti quindi non ve li perdete andate a guardare iscrivetevi e se vi fa piacere attivate anche la campanella sia qua che là quindi ci vediamo in tutti e due canali detto questo non mi rimane che ringraziarvi del mio appuntamento ai miei prossimi video ciao da riccardo e a presto